E benvenuti, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa e Vangelo. Mi scuso per qualche minuto di ritardo, ma ieri il coordinamento romano è finito tardi, poi abbiamo chiuso tardi anche il quotidiano La Croce e oggi dunque ci ritroviamo un po' in ritardo nella consueta messa in onda della nostra trasmissione in diretta. Fatemi salutare subito Medi Rossi, impegnata nelle ultime 72 ore di raccolta firme a Padova. Fatemi salutare Angelica Bosio, Silvia Lodà, che è proprio reduce anche lei dal coordinamento romano. Saluto Alessandra Bertozzi, Milena Brindisi-Trabbona, anche Milena è reduce dal coordinamento romano. Saluto Vittoria Polacci, Anna Russo, Pio Cerocchi, lo storico direttore del Popolo, insieme al quale oggi ricordo la morte di Aldo Moro, 9 maggio 2017, 9 maggio 1978. Proprio a quest'ora, fra pochi minuti cade l'anniversario preciso, arrivava la telefonata e la scoperta del cadavere di Aldo Moro in via Caetani. Saluto Maria Marrosu, Don Francesco Morcavallo, Gasperina Anna Ligiato, Fabio Freddi, Angelica Bosio, dice buon dì, sempre più sconvolto e tra poco devo pure andare in televisione, quindi dovrò darmi una sistemata. Saluto Don Massimo Lapponi, saluto Jacopo Pioli, che ci scrive dalla Cina, Lorenzo Casi, Nicolò Marino, Massimiliano Esposito. E allora, un abbraccio a tutti voi, appunto ricordo 9 maggio 2017, 39esimo anniversario della morte di Aldo Moro, morto per mano delle Brigade Rosse, dei comunisti, per la testimonianza politica che ha reso. Saluto Emanuele Lobueto, Totò Cuntreri, Paolo Ruotolo, Alberto Agus, il Diagono Marco Luigi Pucci, c'è Marco Fasulo dalla Basilicata, onore ai Lucani, saluto Gianluca Valpondi dal Piemonte, dove stiamo chiudendo quattro liste. Oggi tra l'altro abbiamo già consegnato la prima lista, perché in Friuli Venezia Giulia si consegna come regione a statuto speciale con due giorni d'anticipo e abbiamo consegnato a Fontana Fredda la lista del popolo, della famiglia. Saluto Cinzia Gioia, che ora ci mette la faccia, saluto Piera Giacometti, Andrea Cona, Rita Mesiti, Susanne Demetz, Mario Gallitto Gnotta, Domenico Gallo e tantissimi altri amici che sono in diretta oggi, Anna Esaurita e Celli. Mary Tossi oggi festeggia addirittura le nozze d'argento, 25 anni di matrimonio e contemporaneamente lavora con il marito Danilo per il popolo e la famiglia. Grazie davvero, saluto a Luciano Simone, a Barbara Putignani, a Leonardo De Stefano, Fabio Ceseri, che ricorda anche Peppino Impastato, anche lui morto il 9 maggio del 78, lo stesso giorno di Aldomoro, Marilisa Tessari, Anna Esaurita e Celli, Melania Simoni, Giuseppe Brienza, Andrea Cona, Tifa per Grigolini Sindaco, anche a Verona, ovviamente siamo impegnati per la presentazione delle liste, saluto Andrea Fratini, Mirko Bianchi, Anna Russo dice sembra ieri, invece sono passati tanti anni, sono passati 39 anni dalla uccisione di Aldomoro, da quella giornata di lutto per la storia italiana. Stefania Garri, Marco Pennetti e Marco Fasuto dice come dica una fontana fredda, yamma yam, un mi piace e un condividi a questa diretta, andiamo a leggere già in tripla cifra la pagina della Buona Notizia di oggi, è arrivata anche Emanuela Ponti, candidato Sindaco a Monza per il Popolo e la Famiglia, saluto Andrea Cavenaghi, saluto Barbara Putignani, saluto Umberto Poli, che ricorda che 31 anni fa veniva battezzato, saluto Rossellina Maria di Luna, e allora andiamo a leggere il Vangelo di oggi, è un Vangelo bellissimo, dico subito, capitolo 10 di Giovanni, ecco Emanuele Lobue, che finivamente riesce a salutarmi in diretta, dopo dieci giorni con Amato, con Arari Pazzeschi, per portare il Popolo e la Famiglia su tutto il territorio nazionale, bravissimo Emanuele Lobue, saluto Adelio Cavina, Daniele Rascini, Marco Pennetti della lista, pare che abbia fatto una lista anche in Umbria, mi pare, a Todi, quindi bene, saluto Grazia Lattanzio, Marcello Faustino dell'Emilia Romagna, Rosa Grazia Pellegrino, siamo davvero tantissimi, e dicevo il Vangelo di oggi, un Vangelo straordinario, ve lo dirò tra poco, per due parole in particolare, il Vangelo di Giovanni, c'è anche Angela Ciconte, che saluto, oltre a Marco Baggi, a Luisa, Andrea Dolcini, Cristiana Papini, allora, capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, i versetti dal 22 al 30, ricorreva in quei giorni a Gerusalemme, la festa della dedicazione, era d'inverno, Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone, allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano, fino a quando terrai l'animo nostro sospeso, sei tu il Cristo, dillo a noi apertamente, Gesù rispose loro, ve l'ho detto, e non credete, le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza, ma voi non credete, perché non siete mie pecore, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, ed esse mi seguono, io do loro la vita eterna, e non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano, il Padre mio che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio, io e il Padre siamo una cosa sola, è parola del Signore, è una parola straordinaria, non siete mie pecore, attenzione, Gesù sempre duro, Gesù non è il volemose bene, Gesù non è, siamo tutti uniti, Gesù non è, non esiste il bene e il male, Gesù non è, non esiste il peccato, fai come ti pare, no, Gesù è esigente, ma questa pagina è talmente poetica, che io in quella pennellata, era d'inverno, era d'inverno, trovo la sapienza letteraria, che davvero nessuno scrittore saprebbe esprimere con tanta modernità, la collocazione, spazio-temporale dell'avvenimento viene pennellata, proprio come fosse un artista impressionista, con due parole, due parole e mezza, era d'inverno, e l'immagine diventa tutta un'altra, con Gesù che passeggia nel Tempio, ma senti quasi il rigore, la festa della dedicazione, sentite che forza anche nel sonoro, vorrei dire, della scrittura evangelica, davvero qualcosa di straordinario, questa pagina la trovo bellissima, intanto perché è esemplificativa delle pecore che sono con Cristo, di quelle che non sono di Cristo, è una divisione che dunque c'è sempre, in ogni pagina evangelica troviamo una pagina dialettica, mai la pagina del love is love, che viene raccontata oggi, dell'evangelizzazione secondo terzo millennio, per cui siamo tutti uguali, tutti fratelli, tutti identico, nulla cambia, siamo nella notte in cui tutte le vacche sono nere, no, le mie pecore, e voi non siete le mie pecore, e poi questa bellezza, del rigore invernale, come a dire che fosse un tempo duro, appunto, un tempo duro, era d'inverno, io la trovo francamente, una pagina, la trovo una pagina di estrema forza, estrema poesia, ed è l'inverno che viviamo anche noi, era d'inverno, potrebbe essere un titolo per una nostra pubblicazione, perché il tempo che stiamo attraversando è certamente di questo genere, siamo d'inverno, è un tempo che non è l'estate rigogliosa dei frutti, è un tempo in cui dobbiamo essere lì, curvi, nella fatica, nel freddo, non accolti, molto spesso, a seminare, a seminare per l'attesa del tempo della crescita rigogliosa e del raccolto, questo è il nostro tempo, e questo era d'inverno di oggi della pagina evangelica richiama direttamente lo sforzo e il lavoro che stiamo facendo, saluto Don Filippo Cotroneo, saluto Corrado Salonia, impegnato in questo momento in Sicilia, ad Avola, per le liste del popolo della famiglia, saluto Paolo Pasanisi, ieri protagonista del coordinamento romano del popolo della famiglia, Mary Rossi fa la strillona del quotidiano La Croce, grazie davvero, oggi abbiamo fatto un altro numero molto importante in cui abbiamo portato alla luce una notizia, la notizia che credo sia interessante è che andando a leggere i nomi della nuova direzione nazionale del Partito Democratico, cioè l'organo che governerà il Partito Democratico nei prossimi quattro anni, abbiamo scoperto una cosa che sui giornali non è emersa, e allora l'abbiamo fatta emergere sul quotidiano La Croce, nell'editorialino di oggi, tutti a parlare dell'esclusione di Gianni Cuperlo, che è stato il rivale di Renzi nella scorsa tornata delle primarie, escluso dalla direzione nazionale, escluso Franco Marini, che è stato presidente del Senato e quasi presidente della Repubblica, escluso Giuseppe Fioroni, già ministro della pubblica istruzione, anche lui una colonna, diciamo così, del Partito Democratico, peraltro di area ex popolare, ma quello che nessuno ha notato è che sommessamente Renzi ha escluso i suoi della lobby LGBT, ha fatto fuori dalla direzione nazionale sia Ivan Scalfarotto che Paola Concia, cioè due nomi simbolo che tutti conoscono della lobby gay e lesbica vicina al segretario nazionale del partito. Non solo, ma i due esponenti e in fondo più noti del mondo LGBT in Parlamento, che sono Monica Cirinna e Sergio Lo Giudice, sono in questo momento durissimi contro Renzi, lo definiscono il peggiore segretario. E Renzi allo stesso tempo vi sarete accorti che si è messo a declamare all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico la forza della parola mamma, tutto a un tratto. E' troppo tardi, amici miei, caro Renzi, non puoi fare dallo stesso palco l'esaltazione della legge sui unioni civili che tu vuoi ascriverti a tuo merito e poi metterti a declamare la parola mamma. Le due cose insieme non stanno. Se tu consenti a Nichi Vendola di andarsi a fare l'acquisto dei bambini all'estero e farlo crescere, quel povero bambino, senza mamma, così come l'ha consentito a Sergio Lo Giudice che se ne è comprati due o come lo considerai a Tiziano Ferro, insieme non puoi mettere la declamazione della parola mamma. Le due cose insieme non stanno. Però ho l'impressione che Renzi si era cominciato a rendere conto che puntare tutto su questa lobby LGBT potrebbe essere, come dire, fonte di sventura visto ciò che è accaduto in giro per il mondo dopo che i governanti sono schierati insieme alle istanze di questa lobby trasformando i desideri in diritti. L'esito non è stato positivo. Sono tutti saltati quei governanti. Saltato François Hollande che non si è potuto neanche ripresentare alle elezioni, saltato David Cameron in Gran Bretagna, saltato l'amministrazione democratica negli Stati Uniti e lo stesso Renzi ha pagato al caro prezzo perdendo platealmente il referendum del 4 dicembre nonostante noi avessimo avvertito dal Circo Massimo che milioni di famiglie si sarebbero ricordate. Lui ha voluto forzare comunque la mano e adesso, insomma, si ritrova evidentemente a probabilmente mordersi le mani dopo aver letto peraltro i dati del flop della legge sull'Unione Civile che hanno interessato qualche migliaio di persone tutto qui. Quindi quella roba non garantisce consenso politico evidentemente porta in rotta di collisione con i bisogni delle famiglie vere che non sono qualche migliaia sono molti decine di milioni le persone che vivono in famiglie vere cioè la famiglia riconosciuta dalla Costituzione che ricordo dice sempre che la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio questo è il tipo di espressione usata dalla Costituzione dunque nel giorno 9 maggio in cui noi ricordiamo un grande statista cattolico come Aldo Moro trucidato sul terreno delle riforme quelle vere il tentativo di vendere per riforme qualcosa che davvero riforma non è come la legge sui unioni civili è evidente che qualcuno comincia a capire che con questo si perdono voti Don Filippo Codroneo scrive esplicitamente da quando Renzi ha permesso questo scempio delle unioni civili con tutte le conseguenze che esse comportano ha perso il mio voto lo dice un sacerdote molti sacerdoti votavano PD molte famiglie cattoliche votavano PD questo è assolutamente perso come consenso è di monito tutto questo e dobbiamo lavorare assolutamente a qualcosa di alternativo come appunto è il popolo della famiglia Vladimiro Campello ci conferma che a Fontana Fredda è stata presentata ufficialmente la prima lista del popolo della famiglia perché a Fontana Fredda abbiamo già consegnato perché a Fontana Fredda che è in Friuli Venezia Giulia si consegna con due giorni d'anticipo la documentazione al comune Friuli Venezia Giulia che è una regione al statuto speciale e alle sue regole speciali dunque il primo comune in cui ufficialmente in cui ufficialmente il popolo la famiglia è in corsa per le prossime amministrative è Fontana Fredda grazie ai ragazzi del Friuli Venezia Giulia grazie a Dalla Marta all'Incetto e a tutti gli amici di questo gruppo un saluto a Massimiliano Esposito anche lui impegnato a Goito vediamo se arrivano notizie precise anche da Goito sulla nostra presenza alle amministrative sono le sorprese dell'ultima ora perché già sapete che siamo fortemente impegnati a Verona a Padova stiamo raccogliendo le firme in queste ultime ore a Genova a Grugliasco a Savigliano ad Alessandria a Borgo Manero con Alberto Cerutti candidato sindaco a Riolo con Mirco De Carli candidato sindaco a Riccione a Parma a Comacchio è spuntata anche una lista in Umbria a Todi abbiamo le liste a Ischia a Bacoli a Melito ad Avola in Sicilia e insomma ecco anche Corrado che arriva con la conferma che in Sicilia abbiamo candidato quattro donne e due uomini nella nostra lista per il comune di Avola e dunque è un lavoro estremamente importante quello che stiamo facendo sul territorio per chiedere consensi per il popolo e la famiglia Cristiana Papini dice guardiamo di non farci inchiappettare da Renzi ora esattamente quello che dobbiamo fare è sottolineare che la conversione diciamo così di Renzi è di pura convenienza e assolutamente troppo tardi per poter guadagnare qualsiasi attenzione o consenso noi siamo l'alternativa a questi politici opportunisti a questi politici privi di scrupoli a questi politici che hanno sbagliato i conti si sono schierati contro la famiglia e ora per la famiglia è il tempo di votare rappresentanti autonomi saluto Laura Quarta da Firenze saluto Marcello Baldini il nostro eletto nel Consiglio Municipale a Ravenna eletto del Popolo della Famiglia saluto Faustino Cogliand saluto Vittoria Polacci ci mancano tre regioni sono Molise Val d'Aosta e Puglia dove non siamo riusciti ad organizzarci sufficientemente bene nel resto del territorio nazionale siamo ovunque presenti con organizzazioni territoriali che hanno già sperimentato o sperimenteranno in questa tornata elettorale l'esperienza delle amministrative perché è molto importante avere tutti questi nuclei del Popolo della Famiglia che già hanno fatto esperienza per le amministrative perché in vista delle politiche sanno già quello che bisogna fare il Popolo della Famiglia di Lecce è organizzato ma non è ancora stato in grado di presentarsi alle elezioni c'è un nucleo dobbiamo lavorare per rendere più forte la nostra presenza in Puglia Puglia Molise e Val d'Aosta sono le ultime tre regioni da coprire per avere una presenza strutturata su tutto il territorio nazionale di gente esperta questa è la cosa importante noi abbiamo preso persone che non avevano mai fatto politica mai fatto politica e le abbiamo tutte trasformate in esperti di documenti codicilli certificati elettorali atti principali atti separati autenticatori di firme capito questo è quello che abbiamo fatto una vera e propria scuola è una scuola fatta sul campo quindi quando dovremo affrontare tra qualche mese le elezioni politiche quello che abbiamo già sperimentato diventerà qualcosa che sappiamo già fare ecco conferma Meri Rossi Meri Rossi è in campo a Padova e ovviamente Meri Rossi non è una vita che ha fatto la politica è da qualche giorno impegnata su un territorio così ostico e dunque Cinzia Gioia si sta attivando nel Barese questo è importantissimo Giuseppe Fogone ci dice in Campania stiamo consumando le ruote c'è Daniela Scavolini delle Marche buongiorno a tutti i fratelli e sorelle della popola famiglia ci dice Daniela Scavolini coraggiosa nostra rappresentante nelle Marche saluto Tutu Di Leo saluto Ester Corona dunque dobbiamo imparare a fare e abbiamo imparato a fare facendo le lezioni amministrative abbiamo imparato la tecnica e tutte le fatiche che corrispondono a dover costruire la presenza nelle liste elettorali che vi assicuro chi lo fa sa quanto è faticoso farlo quindi quando vedete una lista presentata alle elezioni pensate che dietro c'è una fatica enorme dal punto di vista tecnico organizzativo burocratico per far sì che quel simbolo sia presente sulla scheda elettorale non è automatico non è che uno decide la mattina disegna un simbolo e lo presenta alle elezioni no c'è dietro tutto un lavoro enorme faticosissimo che viene compiuto per far sì che quella presenza sia possibile come dice Esther Corona abbiamo imparato a fronteggiare il mondo saluto anche Mirko De Carli il nostro candidato sindaco a Riolo Terme che tra l'altro sta coordinando la presenza delle liste su tutto il territorio del nord Italia dove stiamo cercando di fare un lavoro molto analitico regione per regione ricordo a tutti che oltre a presentare atti principali atti separati certificati elettorali di tutti i candidati accettazione di candidatura di tutti i candidati certificati elettorali di tutti i sottoscrittori dobbiamo presentare anche i simboli le deleghe eventuali se qualcuno chiede la delega del movimento del partito la delega la fornisco io e basta che mi dite qual è l'indirizzo a cui inviarvela ve la invio anche stamattina Marco Pennetti ci informa che Claudia Catria è candidata al comune di Deruta in provincia di Perugia la fatica è tanta ma anche la soddisfazione è proprio di poter fare un mese di campagna elettorale sul simbolo del popolo della famiglia qui c'è Alberto Livieri in generale è molto difficile conquistare voti è quello del lavoro che dobbiamo fare dall'11 maggio quando avremo presentato le liste all'11 giugno quando si vota tutto questo va fatto con grande precisione analiticamente senza sbagliare nessun documento nessun passaggio ma su questo ci siamo dimostrati molto capaci decisamente molto capaci lavorando devo dire senza mai essere neanche lontanamente rimproverati da un ufficio elettorale mentre anche grandi partiti come il Movimento 5 Stelle qui a Roma e altri partiti in giro per l'Italia hanno dovuto presentare firme false o fare grandi errori noi invece abbiamo sempre raccolto firme verissime e abbiamo consegnato documentazione cristallina Andrea Fratini si ricorda che si presentavano liste come Forza Roma e Avanti Lazio che non si presentano più perché dopo un po' il gioco diventa inutile mentre noi continuiamo ostinatamente il nostro percorso e allora ora l'obiettivo è consegnare con precisione tutte le nostre liste e arrivare all'11 con la presentazione dei documenti Focone ricorda che i certificati elettorali dei candidati vanno richiesti ad uso candidatura l'informazione di Focone poi in realtà gli uffici elettorali non devono essere troppo pignoli perché poi conta la sostanza del gioco democratico siccome noi siamo legittimati dalle firme dei cittadini con le firme dei cittadini la nostra presentazione deve poter avvenire questo lo dico a tutti quelli che rischiano di avere delle difficoltà anche Riolo Terme con Mauro Turdini ci conferma che siamo pronti a presentare tutto viva il popolo della famiglia dunque a Riolo Terme anche sarà certa la nostra presenza con il nostro simbolo ricordo a tutti noi sosteniamo solo liste dove c'è il nostro simbolo qualche volta può essere in bicicletta come si dice con qualche lista civica ma deve essere evidente la presenza del nostro simbolo non sosteniamo singoli candidati nei partiti altrui noi sosteniamo solo il simbolo del popolo della famiglia e candidati che si presentano sotto le insegne del popolo della famiglia non candidati inseriti in liste di altri questo perché il nostro metodo è il metodo dell'autonomia del popolo della famiglia Silvia Lodà ricorda che con Nicola Di Matteo abbiamo ricevuto i complimenti del funzionario dell'ufficio elettorale di Roma per la precisione puntuale dei documenti che erano qualcosa come 5.000 fogli una documentazione a Roma alta così perché oltre per il comune ci presentava anche nelle 14 municipalità del comune di Roma una cosa impressionante saluto Emanuele Lobue che dice tanta fatica ma è necessario per invertire la rotta saluto Gabriella Maiglia Prisca Vegni mi raccomando un mi piace un condividio a questa diretta anche per dare le ultime indicazioni ai nostri territori per la presentazione delle liste nei vari comuni in cui siamo presenti a mio modesto parere è molto difficile avere il voto dei giovani al pdf caro Alberto devo dire la verità ieri abbiamo fatto una riunione del coordinamento romano moltissimo e allora mi hanno telefonato perché stanno arrivando per prendermi per andare in televisione io oggi sarò a canale 5 dalle 9.55 dunque devo lasciarvi perché mi trasportano ora alla alla diretta a canale 5 dove parleremo di donne e potere e andremo a dire delle cose molto precise volevo dire a chi diceva non abbiamo i voto dei giovani che alla riunione del coordinamento romano di ieri erano moltissimi dirigenti giovani giovanissimi come Silvia Lucchetti come Paolo Pasanisi Zingarello tantissimi dirigenti non solo militanti ma proprio dirigenti del movimento che sono assolutamente appartenenti ai nati dal 1980 in poi quindi insomma in televisione più Lucchetti ci vado così con la maglietta bianca con la bandiera americana e i teschi che dici sto messo bene saluto Angelica Bosio chiedo a tutti un mi piace e un condividi andiamo a fare quest'ultimo sforzo la fatica vera finale per la presentazione delle nostre liste in tutta Italia ricordo atto principale che va compilato che va compilato per ultimo contiene tutti gli atti separati contiene le accettazioni di candidatura dei candidati i certificati dei candidati contiene i certificati singoli o anche collettivi di tutti i sottoscrittori della lista contiene il simbolo formato 10 cm formato 3 cm il simbolo ve lo trasmette Nicola Di Matteo se vi serve una delega che non è obbligatoria una delega sul simbolo la delega la fornisco io è già firmata basta imitare un indirizzo e vi invio anche la delega rispetto al simbolo insieme a questo va presentato il programma elettorale e se intendete spendere più di 2500 euro sul candidato sindaco anche il mandatario elettorale cioè colui che vi rappresenterà nelle spese tutto questo lo trovate su internet al sito del ministero dell'interno declamato un volume di 150 pagine io vi ho dato la sostanza delle cose e basta cercare elezioni amministrative 2017 presentazione liste e vi esce il pdf del volumetto di istruzioni del ministero dell'interno alla conclusione di tutto questo tra l'11 e il 12 maggio tutta la documentazione viene presentata in Friuli Venezia Giulia c'è un anticipo di due giorni e a Fontana Fredda abbiamo già presentato tutta la documentazione per la lista del popolo della famiglia a Fontana Fredda queste sono indicazioni precise fate mi piace e condividi a questa diretta affinché tutti i nostri amici nei vari comuni che stanno facendo il lavoro per la presentazione delle liste abbiano le indicazioni su come si presenta materialmente la lista alle elezioni senza fare errori senza drammi dell'ultimo minuto quindi mi piace e condividi Anna Russo dice sono quasi alle 9.30 a 9.55 devi essere in diretta è giustamente preoccupata e dunque vi devo salutare vi chiedo mi piace e condividi alla diretta di oggi e come dice Stefano Sigali andiamo a comandare saluto Ninnarello saluto Antonella Savina saluto Fabrizio Lastei tramite Antonella Savina saluto Nensi Manuela Driu un mi piace un condividi io devo precipitarmi per andare in diretta e sistemarmi diventando presentabile visto che la diretta va in onda fra 25 minuti da Canale 5 saluto Sara Deodati Vittoria Polacci vi prego un mi piace un condividi per tutte le indicazioni da dare ai nostri amici rispetto alle amministrative un abbraccio a tutto il popolo e la famiglia ci troviamo domani per la diretta di Stampa e Vangelo sono giù di voce come ha notato Anna Ciappa ma purtroppo facendo 45 minuti al giorno di Stampa e Vangelo almeno un'ora e mezza di comizio su ogni territorio dove vado a fare il comizio ieri ho fatto intervista di mezz'ora a Radio 24 e di mezz'ora a Radio Cusano adesso vado a fare 40 minuti di televisione ragazzi anche i cantanti con la massima estensione della corda vocale dopo un po' non ce la fanno più ieri ho fatto un'ora di coordinamento romano anche lì parlando sempre senza microfono in effetti vado giù di voce ma credo sia abbastanza naturale e inevitabile adesso ricordando come dice Alessandro Speri che stasera proprio bisogna rifare la Juve per la semifinale di Champions così domani a Stampa e Vangelo la voce non ci sarà più per niente e parlerò con i gesti un abbraccio a tutti voi da Maria Linolfi una buona giornata mi piace condividi a questa diretta per far avere le indicazioni per la presentazione delle nostre liste a tutti gli amici sul territorio nazionale da Maria Linolfi un abbraccio anche a Cristina Zaccanti speriamo di aver risolto quell'equivoco anche quello formale sulla presentazione delle liste a Grugliasco e a Savigliano mi raccomando Massimiliano Esposio Aspletto notizie ufficiali per Goito saluto Milena Brindisi Drabona Anna Ciappa Gianluca Valpondi speriamo davvero come dice Gianluca che lo spirito santo per intercessione di Maria ispiri le mie parole in televisione ci vediamo a Canale 5 se volete tra pochi minuti dalle 9.55 in diretta a Mattino 5 un abbraccio da Maria Linolfi grazie a tutti